Come scaricare dei podcast, questo è il podcast per l'eccellenza che dovevo registrare già da un po' di giorni Benvenuto all'interno di questa puntata audio, benvenuto all'interno di uno dei miei contenuti più interessanti ed è il primo di una serie che registrerò direttamente in formato audio Io mi chiamo Ciro Muto, se questa è la prima volta che ascolti uno dei miei audio sappi che sono praticamente l'autore più letto in Italia per le notizie di finanza ho il sito più letto in Italia per tutte queste notizie qui e oggi ti voglio spiegare in maniera dettagliata, sotto forma di audio, come puoi scaricare alcuni podcast anche se non è la mia materia principale, so bene che questo podcast è molto ricercato perché mi occupo anche di SEO, quindi nello specifico oggi ti voglio spiegare, raccontare e provettere che entro la fine di questo podcast otterrai non solo le informazioni che ti spiegheranno come puoi scaricare un podcast in maniera ufficiale, veloce e rapida ma ti darò anche alcune indicazioni nella descrizione di questo podcast che ti consentiranno di ottenere il massimo dei tuoi risparmi anche cercando di andare ad aprire alcuni prodotti innovativi che ti consentono di ottenere soldi, denaro, prestiti, mutui, carte di credito e tanto altro che dire, scaricare i podcast potrebbe sembrare una cosa davvero semplice e banale se la sai fare ma se non la sai fare ti potresti trovare in difficoltà un podcast come questo può essere scaricato in qualsiasi piattaforma ma più che scaricato vogliamo dire salvato perché i podcast sono quasi sempre gratuiti i miei lo sono anche se a breve ci sarà una sezione per alcuni podcast premium a pagamento ma nel 99,9% dei casi un podcast non è altro che un audio messo a disposizione da una persona di buon cuore come me che ti vuole dare l'opportunità di imparare qualcosa in più e di conseguenza in questo podcast ti spiegherò come salvarli se sei un fruitore di un podcast attraverso Apple Podcast c'è la possibilità attraverso un semplice bottone cliccando sui tre puntini di salvare il podcast anche in maniera praticamente automatizzata senza poi più l'obbligo di dover ascoltare il podcast in formato audio perdonami, in connessione presente a internet tipo per esempio io nel mio ultimo viaggio verso Milano prima di salire in aereo mi sono detto di scaricare dei podcast scaricare dei podcast senza poi più avere l'obbligo di mantenere la connessione a internet attiva quindi questo è uno dei tanti vantaggi che la piattaforma Apple Podcast mette a disposizione in maniera del tutto gratuita all'interno degli smartphone che tutti noi abbiamo in tasca se sei un utente Android allo stesso modo c'è Google Podcast che ti dà la stessa possibilità di salvare il podcast in remoto ci sono anche alcune vie secondarie che ti consentono di scaricare questi podcast all'interno praticamente di una cartella download non mi sento di consigliarti tutte queste solite piraterie che molto spesso non sono consentite ti indirizzo quindi di conseguenza a quella che è la funzione principale sia di Google Podcast che di Apple Podcast ma non ti dimenticare che per esempio anche i miei podcast sono disponibili su Spotify che è una piattaforma totalmente gratuita che ti offre anche la fruizione dei contenuti podcast ed ha anche anch'essa lo stesso pulsante che ti consente di scaricare i podcast in maniera automatizzata di aggiungerli all'interno di una playlist particolare non è il mio caso perché le playlist di finanza funzionano ma la finanza funziona se hai un obiettivo specifico se non ne hai uno di specifico te lo devi creare poi vai a creare una playlist di conseguenza non sono in tanti quelli che lo fanno però mi auguro che anche dopo questo podcast tu possa prendere l'abitudine di creare delle playlist di finanza perché sono molto importanti il denaro non va mai trascurato i soldi sono importanti nella vita di tutti quanti contano perché credimi che il denaro conta per davvero all'interno di questo podcast ti ho promesso che ti spiego non solo come scaricare i podcast e l'ho già fatto secondo le vie ufficiali perché secondo le vie non ufficiali non trovi nulla all'interno del mio canale podcast di conseguenza non mi resta che lasciarti alcune indicazioni come ti dicevo qua sotto praticamente ci saranno vari link che ti consentiranno di ottenere varie cose nello specifico in questo particolare momento storico sono appena ribassati i tassi di interesse sono davvero in tanti che sotto le feste di Natale cercano un prestito aggiuntivo del denaro extra sia per fare dei regali che per fare un eventuale a breve settimana bianca sulla neve quindi se hai la necessità di richiedere un piccolo prestito ci sono tre pulsanti che ti consentono tre link di generare tre preventivi totalmente gratuiti oltre questa informazione sempre qua sotto trovi sia dei conti che delle carte e anche delle assicurazioni convenienti sono le più convenienti del web fidati perché mi arrivano migliaia di commenti nel giro di veramente pochi giorni tutti quanti pronti a ringraziarmi per i consigli che gli ho rilasciato in maniera gratuita quindi qua sotto trovi un po' di cose delle quali io ti consiglio di approfittare ti consiglio oltremodo di seguire anche il mio canale youtube di dare un'occhiata al mio sito istituzionale in quanto siamo praticamente oltre 4.700.250 dueltori che di conseguenza ogni giorno si capofittano si lanciano all'interno di questi contenuti gratuiti e in tanti insomma richiedono anche dei servizi premium nello specifico sempre nel settore del denaro della crescita personale o del management quindi se sei un titolare di partita IVA se sei un piccolo imprenditore o un grande imprenditore e vuoi diventare ancora più grande dai un occhio anche alla mia pagina consulenza e a tutto ciò che è racchiuso all'interno del mio sito istituzionale con questo è davvero tutto questo podcast lo chiudiamo alla solita maniera io ti saluto e ti aspetto all'interno di un prossimo audio carico pronto ad imparare sempre più cose perché i podcast sono davvero eccezionali per imparare specialmente per quelle persone che come te sono alla guida del proprio veicolo nella maggior parte della giornata se non sei alla guida ma sei in passeggio e desideravi scoprire come scaricare un podcast spero di aver risposto alla tua domanda ti saluto ancora una volta e ti aspetto in un prossimo episodio audio ciao ciao